Siracusa, Covid-19, mancati controlli sulle RSA e CTA, mancati focolai, nuovi presunti casi. Anche a Siracusa proseguono a tappeto, come in tutta Italia, controlle le indagini sulle residenze per anziani, strutture identificate nelle ultime settimane come focolai di contagi e vittime di coronavirus. Nella Siracusa il problema non è insito soltanto sulle RSA, ma a ben analizzare l'azione sanitaria anche sulle CTA, perché stranamente a Siracusa non se ne parla, ma sono altrettanto gravi perché gli operatori, a quanto pare, sarebbero lacunose di dispositivi di sicurezza. Molti ospiti, essendo psichiatrici, non riescono a mantenere la mascherina, quindi, a quanto pare, il presagio di un'altra probabilità di contagio, essendo piccato accanto alla RSA, anni d'oro e Salus risulta infetta, anche il personale non se ne parla e non si interviene. Per la cronaca e in Salus erano anche presidi e per questo gli operatori si sarebbero infettati. Il centro pasti è per tutti uguali e sarebbero anche loro senza presidi, solo mascherine chirurgiche. Ultimamente nella CTA hanno dovuto accogliere un paziente TSO dell'ospedale di Maria Diavola. Si dice che sia negativo al test, ma gli operatori non hanno mai avuto visione del risultato del tampone. In RSA e in Salus dicono di aver fatto tamponi tutti negativi. Le preoccupazioni sono tante, inoltre anche alla CTA2 pubblica alla Pizzuta sono state osservate e le disposizioni anti-Covid-19 non è dato sapere. Intanto si percepisce una situazione che potrebbe esplodere. Un focolaio alle porte occorre intervenire al più presto.